Stava attendendo il pullman come ogni mattina per raggiungere la scuola quando è stata travolta da un altro bus di città. E' una ragazzina di 14 anni, iscritta al primo anno delle scuole superiori a Taranto, pare l'istituto magistrale Maria Pia. L'incidente è avvenuto alle 7.30 in via Lecce, angolo via Giordano a San Giorgio Ionico. La giovanissima pendolare, come tutti i giorni, stava attendendo il suo autobus per raggiungere la scuola. E' stato un attimo, la giovane ha visto sopraggiungere il mezzo che prende ogni mattina, ha così iniziato ad attraversare la strada sostando qualche istante al centro della carreggiata. Dalla direzione opposta nel frattempo è giunto un altro pullman e probabilmente perché poco visibile a causa della luce del sole o forse perché nascosta dagli altri mezzi in transito, il conducente non ha visto la giovane non riuscendo così a frenare. La ragazzina è stata travolta con una violenza tale da essere scaraventata a diversi metri di distanza dal punto esatto dell'incidente. Immediatamente i passanti hanno dato l'allarme, sul posto sono arrivati i carabinieri e l'ambulanza del 118. Secondo alcune testimonianze, sulle prime la 14enne avrebbe anche risposto alle domande, ma la giovane continuava a perdere sangue da un orecchio e la situazione si è così aggravata. Poi la corsa al pronto soccorso del Santissima Annunziata, dove ora la studentessa è ricoverata nel reparto di neurochirurgia in prognosi riservata. Il colpo e la caduta le hanno provocato la frattura del cranio, oltre che altre fratture in diverse parti del corpo. Sando le prime dichiarazioni dei medici, la 14enne non sarebbe in pericolo di vita, seppure le sue condizioni sono gravi.